La città di Alassio, la città di Alassio che ha rappresentato il sguazzo che ci ricorda l'area natatoria in Genova-Pra. Ringrazio Marco Griglione di aver partecipato anche quest'anno. Ho visto aprire tutte e tutti, si dirigono verso il tappeto e dall'altra parte vorrei vedere aprire l'altra parte. Sì, sì, adesso... Ed eccole le mascotte per la tredicesima edizione del Raduno Nazionale ad Artesina. Pinky ad aprire la fila, seguito da Mondolotto e tutti i loro amici arrivati per festeggiare insieme ai piccini una giornata dedicata alle famiglie. Grazie, secondo te? Grazie. 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 insieme